Ciao! Come si sente papà? Bene, grazie, molto bene. Ho dovuto cambiarmi le scarpe. Queste possono andare? Sì, stanno bene. Ma sono molto eleganti. Grazie della tua compagnia. Grazie a lei. Ti voglio molto bene, Marianne. E io voglio bene a te, papà Isaac. Quando durante la giornata sono stato preoccupato o triste per calmarmi di solito cerco di ripensare ai periodi felici dell'infanzia. E così feci anche quella sera. Isac, caro, le fragole ormai sono finite. La zia vuole che tu vada a cercare tuo padre. Segui la riva, noi passeremo a prenderti con la barca. L'ho cercato dappertutto, ma non riesco a trovare né lui né la mamma. Ti aiuterò io. Vieni, 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 vieni. Vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Grazie a tutti